Dopo la vittoria importante, straordinaria del derby, domani il nostro Milan alle ore 21 scenderà in campo contro la Lazio, partita di Coppa Italia, una partita che il Milan deve affrontare al meglio perché per anni si è snobbata questa competizione, ma per il Milan, soprattutto per questo gruppo di ragazzi giovani, affrontare tutte le partite col massimo dell'impegno, la massima dedizione alla vittoria è sicuramente un aspetto importante per quella che è la mentalità del gruppo. Il Milan deve imparare a giocare tutte le partite per vincere, deve scendere in campo sempre con questo obiettivo senza trascurare partite perché ogni vittoria sicuramente lascia qualcosa e ovviamente cercare di portare a casa titoli non fa altro che aumentare la mentalità di questo gruppo, questo gruppo che è davvero molto molto giovane, quindi massima concentrazione. Leggiamo insieme adesso l'analisi del nostro collega Andrea Spoto sulla partita e poi la commentiamo insieme e commentiamo un attimino, andiamo a capire un po' cosa può fare il nostro Milan domani per cercare di arrivare alla vittoria. Finora la stagione della Lazio è stata in chiaro oscuro con delle buone prestazioni e dei passaggi a vuoto. La squadra di Sarri è sesta in campionato, in Coppa Italia ha conquistato i quarti di finale vincendo 1-0 contro l'Udinese agli ottavi e in Europa League è arrivata seconda nel gruppo E staccando il pass per i playoff in cui sfiderà il Porto. Probabilmente la discontinuità delle prestazioni e dei risultati è dovuta al fatto che la squadra non ha ancora assimilato bene i dettami dell'allenatore toscano e non è completamente adatta a giocare il calcio che vuole proporre l'ex tecnico della Juve e del Napoli. Che Lazio incontreremo domani? Una squadra in rodaggio che Sarri sta cercando di plasmare secondo la sua idea di calcio, una squadra abile a palleggiare e forte in contropiede nel gioco aereo. Sentiamo di proposta di gioco che di equilibrio e movimenti dicendo dei meccanismi e degli automatismi da affinare. I bianconcelesti nelle scorse 5 giornate di campionato hanno conquistato 8 punti, hanno vinto contro la Salernitana, hanno vinto contro la Fiorentina, pareggiato contro l'Empoli e l'Atalanta è perso contro l'Inter. Hanno il settimo rendimento esterno con 17 punti, conquistati il terzo attacco con 49 gol, quindi un attacco importante e l'undicesima difesa con 39 reti subite. La Lazio è prima per assist, 36 per chilometri percorsi, media partita 112. Finora il miglior marcatore stagionale bianconcelesti ovviamente è immobile che ha segnato già 22 reti. Il classe 90, l'attivo di Torre Anunziat è insieme a Vlaovic il miglior marcatore del campionato con 18 reti realizzate. In campionato nel giro d'andata vincemmo 2-0 con le reti di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Tre aspetti importanti. La prima riflessione che aveva dato anche il nostro collega Andrea Spoto. La discontinuità della Lazio di prestazioni, di risultati, sono dettati dal fatto che non ha ancora la squadra assimilata, non ha assimilato bene il gioco di Sarri. L'abbiamo visto soprattutto a Napoli dove il mister Toscano ha avuto la possibilità di lavorare e di creare un ciclo. Ci ha voluto del tempo per plasmare questo gioco veloce, questo fraseggio continuo del Napoli di Sarri. Il 4-3-3 con Allan, con Amsic, con Insigne, con Mertens, con Kayekon. Quel Napoli di quel Napoli spettacolare. Per ricreare tutto questo la Lazio ci vuole sicuramente del tempo. Ci vuole sicuramente pazienza. Quindi è normale che i risultati non arrivino subito dopo che la Lazio ha finito un ciclo con Inzaghi che aveva un'idea, una proposta di gioco completamente differente. Però attenzione a un aspetto. Attenzione perché la Lazio è una squadra che segna molto, ben 49 reti. Quindi bisognerà stare molto attenti. Domani bisognerà cercare di chiudersi bene in difesa, di cercare di tenere le linee strette, di cercare di stare molto, molto corti. E attenzione perché la Lazio è prima per assist, ben 36. Quindi una squadra che arriva il gol non tramite i giocati individuali ma tramite un gioco corale, collettivo, fatto di assist. E attenzione a un dato, questo potrebbe essere significativo. È una squadra che, e questo va in controtendenza, la squadra che palleggia molto ma è la squadra che ha corso di più. 112 km a partita. Questo vuol dire che? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una squadra che molte volte si allunga. E questo è il significato del non risultato costante della squadra di Sarri. Sarri è un allenatore che a Napoli, ha provato anche lui, cerca di fare la squadra molto corta. Un 4-3-3 corto. E questo concetto ancora non è stato ben assimilato, derivando dal 3-5-2 di Simone Inzaghi. Quindi bisognerà essere bravi ad avere il dominio del gioco e cercare di trovare quegli spazi che la Lazio ci può ovviamente concedere. E attenzione a Ciri Immobile, attaccante che è stato molte volte criticato, soprattutto in ottica nazionale, che viene spesso giudicato in negativo. Però come dicevo sempre ieri nei video, ci vuole sempre equilibrio nei giudizi. Non è Lewandowski, ma è un attaccante che vede molto la porta, che fa gol. Con la Lazio, anche col camminatore, è un leader tecnico. È un leader che porta gol. Che porta grande carisma, grande personalità alla squadra. Qui attenzione a Ciri Immobile. Quindi attenzione anche alla rapidità. Lì davanti di Zaccani da un lato e di Felipe Anderson dall'altro. Attenzione agli inserimenti di Savic, di Luis Alberto, abili a inserirsi. Due trequartisti adattati al ruolo di Mezzala. È una squadra ostica. Punto debole, secondo me, è la difesa. Luis Felipe Patric. Lì il Milan dovrà sapere, grazie alla velocità di Leao, all'estero di Diaz, all'intelligenza, alla forza fisica di Giroud, fare la differenza. Solo così il Milan, secondo me, domani può impensierire. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti del video cosa ne pensate. Come sempre, se è piaciuto questo video, vi chiedete di mettere mi piace, di condividerlo. Iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.